Scatta la seconda fase dell'operazione denominata mandamento che lo scorso 4 luglio aveva portato al fermo di 116 persone. La misura cautelare, si legge in un comunicato della procura di Reggio, così come il provvedimento di fermo dello scorso 4 luglio, costituisce a esito di un articolato impegno investigativo coordinato dalla procura e condotto in contemporanea dal rossa del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria e dal gruppo di Logri, che in perfetta sinergia hanno condotto articolate investigazioni su un ampio contesto. Oltre a numerosi capi disponenti di vertice di numerose locali, tra le quali quelle di Palizzi, Spropoli, Africo, Bianco, Ferruzzano, Ardore, Natile di Careri, Portigliola e Santilario, sono state censite numerose nuove endrine che esercitano il controllo su porzioni di territorio anche distanti da quella in cui è insediata la locale sovraordinata. Si fa in particolare riferimento all'andrina di Motticella, dipendente dalla locale di Bruzzano. Le indagini hanno consentito di ricostruire numerosissime attività delittuose dell'organizzazione, con particolare riferimento ai condizionamenti e alle infiltrazioni della pubblica amministrazione, degli appalti e di una pressante e sistematica attività estorsiva in danno degli operatori economici del territorio. Gli inquirenti segnalano in particolare le numerose estorsioni realizzate dagli esponenti del locale di Condofuri sotto la direzione dei Pelle Gambazza in danno di vari imprenditori. L'operazione conferma ancora una volta come le cosche della provincia di Reggio Calabria, in particolare quelle del versante ionico, siano il cuore di tutta l'andrangheta calabrese.